Ci attende un lavoro impegnativo e sono certo che i 12 consiglieri provinciali sapranno svolgerlo nel migliore dei modi. Così il presidente della provincia Roberto Vasai all'indomani dell'esito del voto per il rinnovo del consiglio provinciale che lo ha confermato alla guida dell'ente. Sono certo che avremmo modo di collaborare con senso di responsabilità senza guardare troppo alle dinamiche politiche a quelle di maggioranza e opposizione ma non posso comunque che essere soddisfatto che la lista di centro-sinistra abbia ottenuto la maggioranza relativa e 6 consiglieri su 12. Non resta dunque che metterci al lavoro per costruire una provincia che sia punto di riferimento per i comuni e che sappia dare servizi adeguati ai cittadini nelle competenze che ad oggi le sono riconosciute. Per farlo ovviamente, conclude Vasai, saranno necessarie risorse che ad oggi non abbiamo e speriamo che nell'agenda del nuovo governo questo tema venga affrontato al più presto. Sulla questione è intervenuto anche il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, neo eletto in consiglio provinciale. Io credo che ci siano tutti i presupposti per poter lavorare bene, conoscendo tra l'altro personalmente molti dei candidati che sono stati eletti sia nel centro-destra che nel centro-sinistra. Sono contento che ci siano quasi tutti i sindaci, mi dispiace particolarmente per Antonio Di Bari che non è passato, che è un bravo amministratore e anche un amico personale, ma credo che potremo fare sinceramente un buon lavoro. Fino a quando e in che termini è tutto da vedere perché di fatto sapete che il panorama legislativo in questo momento ha un gap per quello che riguarda le province. Cioè è stato dato corso correttamente l'elezione del nuovo consiglio, ma di fatto che cosa diventerà la provincia in pendenza di una riforma che è stata la del Rio, di fatto viene congelata con l'esito referendario del 4 di dicembre, vedremo che cosa accadrà. Comunque noi siamo pronti a lavorare e a impegnarci per far sì che i territori vengano tutti ben rappresentati insieme al consiglio.